Nel corso di Automotive Design de Muse Formazione andremo a modellare un'automobile da corsa, una Ferrari 250 GTO degli anni 60, che vedete nelle immagini in questione. Utilizzeremo dapprima le visuali frontali e laterali dall'alto e da dietro, importandole dentro il software di modellazione Maya. Realizzeremo prima le curve del modello, quindi di metà modello, disegneremo tutte le varie curve. Sulla base di questo andremo a modellare le varie parti, come la carrozzeria, vediamo il wireframe del modello, le parti cromate, le parti in vetro, le parti di plastica, le griglie e le ruote. Questo è il modello completo. Dopodiché utilizzeremo un software che si chiama Substance Painter per il texturing. Questo software ha vari preset di materiali, che faremo una versione vintage e usurata dell'automobile, in modo da vedere tutte le funzioni di questo software qui. Questa è la visuale 3D. Vediamo anche la versione texturizzata in Maya. Perché dal software poi esporteremo tutte le texture e le importeremo in Maya, per andare poi a realizzare delle immagini, dei rendering fisicamente corretti. Quindi studieremo shader fisicamente corretti e attraverso l'utilizzo anche di immagini HDRI illumineremo le scene in modo realistico, come si vede da questi esempi. Non ci limiteremo solamente alla modellazione e al rendering dell'automobile, ma andremo poi anche ad animarla. Per animarla sarà necessario fare il rigging dell'automobile, che è un sistema dinamico per la predisposizione al movimento dell'automobile, dove abbiamo una curva sotto l'automobile attraverso la quale abbiamo dei controlli custom, per esempio per girare le ruote o piuttosto fare una derapata. E come vedete abbiamo questo sistema dinamico che inserisce le sospensioni, quindi il movimento della carrozzeria in automatico rispetto ai movimenti che sta facendo l'automobile. Quindi andremo poi a fare delle animazioni, come questa che vediamo adesso. Inserendola in un ambiente e illuminandola sempre con un'immagine HDRI di sfondo. e utilizzando diverse telecamere. Utilizzeremo anche un sistema particellare per i tubi di scappamento, per realizzare lo smog. Oltre a questo faremo un'altra animazione, utilizzando un'immagine di sfondo, che è questa, e inserendo l'automobile nell'immagine durante un'animazione. Adesso vediamo il video. Nel rigging c'è anche la possibilità di accendere e spegnere le luci, i freni posteriori, eccetera, proprio come fosse un'automobile vera. Niente, quindi per chi vuole iscriversi al corso, sono 25 lezioni, da 25 minuti ognuna, e ci sono varie esercitazioni durante ogni modulo di lezioni, con testa e risposta multipla, e il corso è aperto a tutti quelli che hanno un minimo di base con un software 3D, come Maya, oppure a chi abbia frequentato già il corso di Maya CP di Musaformazione. E niente, questo era il video di presentazione, e sarà un piacere rivedervi al corso.